Ora sempre per un saluto passo la parola al secondo vice governatore, Francesco Emorella Trovato. Buonasera governatore, primo vice governatore, officer e cari soci e anche nuovi soci. L'evento della serata rivolta ai nuovi soci, la cui importanza è stata sottolineata dai significativi e condivisi interventi delle nostre autorità laionistiche che mi hanno preceduta, non può che riportarmi al giorno in cui ho vissuto la stessa emozionante esperienza che tutti voi nuovi soci vi apprezzate a vivere. Purtroppo le modalità, come è stato già detto, sono ben diverse, ma l'importanza di un evento come quello dell'affiliazione alla più grande associazione di servizio al mondo è talmente intriso di contenuti concreti da farci apprezzare anche una modalità telematica in cui, pur non potendoci congratulare con voi attraverso un abbraccio o di una calorosa stretta di mano, riveste ugualmente un'emozione che insieme alle parole che accompagneranno la vostra prometta resterà nel vostro cuore per sempre. La vostra esperienza in Lions Club International sarà un'esperienza indimenticabile. Come avrete già sentito, è un'esperienza che vi unirà persone che hanno a cuore il bene altrui e che vi stimoleranno a partecipare attivamente ad azioni ed iniziative che miglioreranno le nostre comunità e quindi avranno un valore ed un impatto globale. Chiedendo di far parte del nostro sodalizio, manifesterete la volontà di condividere l'etica e gli scopi gli aionistici, dimostrando di essere uomini e donne inclini al servizio umanitario. Fare parte dunque di Lions Club International vi darà l'opportunità di stringere relazioni interpersonali che possono durare tutta la vita e vi consentiranno di vivere la solidarietà contribuendo, attraverso il vostro talento, a migliorare il mondo e lasciando così un segno sulla vita di molte persone. Voi tutti, insieme al milione e quattrocentomila soci di tutto il mondo, facendo parte di una rete globale, insieme farete la differenza. Avrete la possibilità di sviluppare le vostre doti di leadership e di mettere in pratica le azioni che ogni Club Lions porta avanti. Ma anche attraverso una professionale attività di formazione che la nostra associazione mette a disposizione, voi potrete dimostrare anche di essere dei grandi leader. Service, la vera essenza di Lions Club International, una costante che accompagna ed accompagnerà sempre il nostro modo di agire, racchiuso proprio nel motto We Serve e nel suo messaggio internazionale, dove c'è bisogno, lì c'è un Lion. Con queste semplici parole, piene di contenuti concreti e significativi, vi auguro di servire al meglio insieme e di raggiungere grandi successi. Grazie e un abbraccio virtuale a tutti voi.